Sindaco, c'è dunque un cambio di tendenza, si porta Gela fuori dalle sue mura geografiche per farla conoscere ai turisti, per farla conoscere a chi non la conosce in realtà, nonostante la guida Feltrinelli inviti quasi a non venirci a Gela. Ma noi stiamo facendo conoscere Gela nel suo aspetto reale, nel suo aspetto migliore, dalla sua storia millenaria, dalle ricchezze che ci sono pervenute dal passato e dalle attività intense che vengono svolte in questa città da moltissime associazioni e da tantissimi nostri concittadini. Non è l'unica la Feltrinelli, l'avevamo detto già in campagna elettorale che era assurdo che nelle guide turistiche Gela venisse snobbato o addirittura venisse chiesto di stare attenti. Ma questa è stata una politica che negli anni ha denigrato la nostra città, facendo vedere un lato sicuramente non piacevole e addirittura molte volte amplificandolo, andando a trascurare quello che realmente c'è di bello nella nostra città, che è degno di essere conosciuto, di essere vissuto e di essere apprezzato. Quindi la cosa importante è quello di far vedere il volto umano, reale, storico della tradizione della nostra città. L'invito dell'amministrazione pentastellata di Gela a Feltrinelli, al gruppo Feltrinelli, è quello che magari forse venendo a fare una visita a Gela, venendo a conoscerla direttamente, probabilmente cambierebbe l'idea. Noi ne siamo convinti. Il problema è come è stata descritta Gela negli anni in Emilia. Molte volte le persone o i grandi gruppi fanno riferimento alle notizie che arrivano da interposta persone e non le vengono a verificare. Non ritorno a dire che non è solo la Feltrinelli, però insieme all'assessore Salinitro stiamo pianificando una operazione di verità, andando a coinvolgere sia i tour operator sia i vari operatori che possono essere anche dalla semplice guida turistica. Perché fino a quando il messaggio che veniva lanciato da Gela era solo quello di una città in situazioni sicuramente non piacevoli, dove realmente sono successe determinate cose ma che sono state nel tempo amplificate e riverberate in continuazione, andando a omettere quello che invece c'è di bello, di grande a Gela, è stato questo il vero delitto. E noi su questo ci stiamo mettendo rimedio. Però è inutile attaccare puntualmente. Queste cose si fanno con una politica di conoscenza e non di imposizione. Grazie.